Ci sono due concetti totalmente alieni alla pecora ragazzi, che io adesso spiegherò e sono fondamentali da capire, perché noi abbiamo la Costituzione che dice, no? Partiamo col primo concetto. Il primo concetto è lasciare credere o dire alle persone quello che vogliono. No, finché quello che dicono non tocchi te, diciamo, non tocchi la tua persona, il tuo corpo fisico e la tua proprietà. Quindi se qualcuno vuole rubarti la tua proprietà, che può essere anche la tua vita, per dire, è lì ti dovresti un po'... Ma finché una persona è schizzata per dire, ha idee strane, come le nostre idee, per esempio, di noi complottisti, possono sembrare idee strane alla gente, che ci è, che purtroppo, comunque queste persone andrebbero lasciate libere di poter esprimersi, qualsiasi sia il concetto. Tu puoi anche dire, a me quello là mi fa schifo, perché sta a chi riceve questo messaggio decidere, ma quello è un pazzo, siamo aperti, finisce là. Ma qui non siamo più a quel livello là, magari fossimo a quel livello là. Qui, per dire, in Italia ci sono leggi che tu vai in galera se pensi certe cose. E fra poco anche essere contro la scienza. Già ci hanno etichettato come pazzi, diciamo, però fra poco non potrai nemmeno dirlo pubblicamente questa cosa. E molta gente ha paura, nemmeno lo dice pubblicamente, anche se magari sono liberi dal succo magico. Però pubblicamente non riescono ad ammetterlo, per dire, no? Sono pochi, però. Comunque, in questo video, di cosa parlerò in questo video? Parleremo di due concetti fondamentali. Che a queste pecorelle che si credono amanti della libertà, eccetera, eccetera, gli sfugge proprio. Partiamo quindi col primo concetto, poi dopo vediamo l'ultimo, il secondo. Perché il più importante, secondo me, è il più grave, ma anche il secondo è forte. Questi sono due concetti che io imparai da Bill Cooper, ragazzi. E sto facendo questo video proprio perché, siccome tutto quell'archivio di Bill Cooper è in inglese, e molta gente non sa l'inglese, quindi io voglio essere sicuro che almeno questi due concetti passino. Perché se questi due concetti passassero nella mente dell'uomo, si vivrebbe molto, ma molto meglio. Io, personalmente, penso che l'uomo non è pronto ad accettare questi due concetti. Specialmente il primo. Il secondo è più una specie di fare attenzione a certe cose. Però, vediamo, però se con un po' di anni magari queste due idee entrassero nella nostra testa, sarebbe un mondo migliore. Quindi, libertà di espressione. Articolo 11 della bellissima Costituzione. Guarda che bello qua, c'è scritto punto EU. EUROPA Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere in gerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Bellissima parola la nostra Costituzione. Peccato che questa è la situazione reale, per dire, con un semplice, in questo caso qua, dell'Olocausto, diciamo. Questi sono, in questa mappa in rosso, sono i paesi dove, insomma, si passa guai se si mette in dubbio quello che c'è stato, diciamo. Ripeto, io non sono proprio questo dubbio, non dubbio, a me non mi fregna. Io sto parlando adesso di libertà di espressione, nel senso che, capire questo concetto qua, quindi, che se tu permetti agli altri di dire, solamente dire, poter essere liberi di dire quello che, in quel momento della loro vita loro si pensano, pensa sia vero, di lasciare dire quindi queste cose alle altre persone. Perché se tu lo lasci fare a loro, automaticamente anche tu poi hai quella libertà. Ma se tu dici che, ah no, quella persona non può dire questo, a qual punto chi metterà queste leggi, diciamo, che censurerà quella persona che tu non vuoi, censurerà anche te, diciamo, ti si ritorce contro quella censura che auguri a un altro, no? Se noi fossimo maturi, diciamo, no? Tu senti qualcuno che dice qualcosa di folle, no? Eh, ti rimbalza, no? Ah, che coglione! Ah, guarda, c'è il coglione là che si pensa che è un ariano. Ah, che deficiente, si pensa che deve essere speciale, no? Eh, finisce là. Ok? Quindi non dite adesso che Marcello ha fatto vedere questa immagine, è un nazi skin, è contro gli ebrei. No, sto dicendo. Ci arrivi, Pagorello, cosa sto dicendo? Sto dicendo che ci deve essere libertati anche del nazi skin, di dire la propria, che lui è un ariano, lui è un speciale, perché io voglio che anche la mia idea possa essere libera, no? Libertà totale di pensiero. Finché questa libertà non si... non passa in azione. Perché se le idee di quell'ariano là che si crede speciale rimangono nella sua testa, bene, è nel suo gruppo, è quello che cazzo vuole dire, quanto cazzo gli pare. Ma se queste sue idee poi si passano in azioni per rendere effettive quelle idee, cioè far fuori tutti gli altri perché non sono speciali come te, a quel punto non ci siamo. E questo era un concetto per dire nella Costituzione americana, perché come molti pensano la Costituzione americana non era così creata dai cristiani, non c'è una base cristiana quando parlano per esempio di Dio nella Costituzione, è più un concetto nel senso che... vabbè, più in là poi lo dico questo, però la Costituzione americana è stata... è una Costituzione secolare, nel senso non c'è Dio lì, Dio di una particolare religione, proprio per lasciare liberi tutti di credere quello che vogliono, con questa cosa che finché quei tuoi pensieri, quella tua libertà di pensare a quello che vuoi, non tocchi l'altra persona. Come avete visto anche nel mio canale, per dire, ci sono dei temi che dividono molto la pecora, uno di questi è la religione. A me personalmente, fisicamente, la cosa più violenta che mi è stata fatta, una delle cose più violente che mi è stata fatta in vita mia, è stata proprio dopo aver avuto una discussione religiosa su Dio, come una persona. Questo video sta su YouTube. Io ero stupido due anni fa, pensavo di avere la verità in mano, no? E non avevo questo concetto qua di... sì, parlare con le altre persone, ma... senza offenderle, senza pensare di avere tu la verità, no? E questa persona, come si vede in quel video di quel tizio là, dove parliamo di Dio, questo mio video qua su... praticamente mi cacciò di casa, che questa era una casetta... una casa che lui aveva in... on the top of the mountain, sul cucuzzo della montagna, in un paesino sperduto nel nulla, cioè proprio... non so come ero andato a finirla, perché stavo facendo quel cammino famoso. e lui, di sera, di notte, col freddo, siccome non gli è piaciuto come stava andando la discussione, mi cacciò e io rischiai la vita, perché se non mi fossi messo il saccappelo addosso, sarei morto di freddo, mentre scendevo la montagna per andare al paese più vicino, per trovare un buco dove rifugiarmi. Queste sono le avventure di Marcello. Nel senso, me la so cercata, diciamo, e quindi l'ho trovata. Però ecco, quindi anche... quindi anche persone che... adesso modestamente, che potrebbero sembrare abbastanza flessibili mentalmente, fanno questi... ci cascano a questi... a questo attaccare l'altro subito, se non la pensa come te. Questo è un concetto che purtroppo ancora non prende nell'uomo questo concetto appunto che è quello di rispettare il prossimo, qualsiasi sia la sua idea, lo devi rispettare. Non puoi... perché è violenza alla fine, se tu vuoi forzare qualcuno a pensarla come te, no? Sì, puoi avere una discussione e tutto quanto, però sempre nel rispetto di quello che dice l'altro. E quindi questo concetto qua è fondamentale perché questo è il concetto, cioè l'offendersi facilmente, è il concetto che usano quelli che ci controllano. perché con questa scusa qua, per dire, gli ebrei loro li usano, li hanno usati da sempre come popolo, proprio per censurare. Eh, questo è antisemita. Eh, quando dici questo sei contro... capito? È una scusa che poi il sistema usa questa di offendersi facilmente dalle idee dell'altro per poterti tenere in catene, no? E se vogliamo fregarli questi stronzi qua, noi dobbiamo accettare, noi non dobbiamo accettare che ci siano leggi dove tu puoi essere censurato o messo in galera per dire, se pensi diversamente o se semplicemente hai un pensiero che non piace alla massa. Se questo concetto venisse adottato, è vero, da una popolazione pecorale, questa fattoria sarebbe molto più efficiente, molto più vivibile per noi pecorelli. Ok, quindi andiamo avanti qua, vediamo se... ho cambiato le scorciate... c'è un programma... ecco, c'è un programma qui su Windows, ragazzi, X... ma... X... insomma, c'è un programma che ti fa fare tante cose col mouse, solo che ti fa talmente tante cose che mi scordo quali sono i comandi, però con pochi tasti poi fate tutto, proprio, combinazione di tasti o quanto a lungo prendi un tasto. E siccome ho cambiato le... Vabbè, vabbè... Quindi, fake news, c'è scritto qua, ministero della salute, salute, bufale disinformazione! Quante volte... addirittura l'ultimo strike che ebbi da YouTube non solo mi cancellarono temporaneamente il canale, questo qua, questo Marcel Minga 2, ma addirittura mi cancellarono proprio l'account di YouTube, quindi io non potevo nemmeno più commentare su YouTube. poi mandai loro una lettera d'amore dicendogli proprio mandando mandarle saying to them fuck you non riesco a dire certe cose in italiano. E siccome è un computer che legge quei reclami come si dice? Quegli appelli appeal lo dicono in inglese con la disputa diciamo sono un computer e mi ha detto ah va bene mi è piaciuto questo questo dito medio che mi hai dato io di solito ogni volta che scrivo a YouTube lo mando a fanculo sempre e molte volte funziona e loro mi hanno riattivato il canale io non ci speravo più pensavo che era finito l'avventura YouTube invece mi hanno queste brave persone di YouTube quindi fake news cioè fake news come cazzo si permettono questi qua in alto di decidere cosa la gente deve guardare o cosa non deve guardare questo può succedere solo se hai messo in testa la maggior parte della gente che sono dei bambini e e chi è l'adulto lì in alto li deve difendere capito cioè la situazione mentale dello schiavo medio è veramente grave ragazzi loro sono completamente dei bambini in mano a quello che dice quello dall'alto e si aspettano qualsiasi cosa dall'alto sono andati pure a morire insomma sentendo quello che dice l'adulto e quindi c'è capito questo concetto quindi ogni volta che vedi questa questa arroganza che viene dall'alto sempre questi adulti dall'alto che ci vogliono tanto bene per il nostro bene loro decidono cosa cosa si può dire cosa non si può dire cosa si può fare cosa non si può fare cosa mettere nel tuo corpo cosa non mettere nel tuo corpo ma che cazzo vuoi per dire ci sono addirittura certe vitamine che non puoi prendere in America per dire o altri posti non so perché questi qua decidono che cazzo devi fare tu come ti devi drogare tu o come cazzo vuoi fumare tu decidono loro se lo puoi fare o non lo puoi fare quindi ecco questo è il concetto che c'è nella costituzione americana anche che tu sei libero anche di distruggere te stesso ma poi passerai le conseguenze se tocchi qualche altra persona ma tu di comprare infatti c'è questo concetto nella costituzione americana no non c'è nella costituzione questa però più nei questi libertari anarchici così tutta questa gente così c'è questo concetto in questa come si dice natural law che dice no victim no crime molto fondamentale capire anche questa cosa qua se non c'è una vittima non c'è crimine e purtroppo molte delle persone che si trovano in galera ora victimless crimes crimini senza vittime sono lì semplicemente perché magari li hanno preso con un po' di droga un po' di questo un po' di quell'altro ma effettivamente loro non hanno o magari tu hai offeso hai usato il pronome sbagliato con una persona che è indecisa sul proprio e non lo puoi è anche io che ho detto adesso è questa persona che è indecisa sul proprio però mi sono fermato non lo puoi dire perché è contro puoi offendere queste altre persone qua loro sembra il sistema che che dà diritti in più però in realtà sono diritti per limitare di più capito? quindi se non c'è crimine cioè se tu non hai danneggiato fisicamente una persona o una proprietà di un'altra persona la casa eccetera eccetera o rubato eccetera eccetera non c'è crimine le carceri si svuoterebbero a quel punto perché la droga sta lì ma sta a te poi sì c'è lo spacciatore là ma tu mi devi dare la libertà alle persone di andarci oppure no come per dire qualcuno sta dicendo che noi siamo ariani e voi siete tutti stronzi e noi siamo quelli più forti più belli ma sta alla persona di chi sente questo malato di mente ridere e passare e andare avanti con la propria vita offendersi invece è proprio la caratteristica del demente di una persona chiusa mentalmente che certi discorsi per dire con certe persone non le puoi fare perché si offendono anche semplicemente così per divertimento parlare di certe cose non puoi andarci perché si sentono subito non le puoi fare e quindi è grazie a queste persone qua che vengono usate dal sistema che loro possono azzittirci e poter esprimere certi concetti che libererebbero 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 l'uomo ok abbiamo spremuto abbastanza il concetto numero 1 vogliamo passare Marcel per favore al concetto numero 2 abbiamo capito che dobbiamo essere dobbiamo permettere alle persone di pensarla come vogliono noi non abbiamo la verità in mano ma adesso vogliamo sto aspettando il concetto numero 2 ma Marcel sta cercando di ricordarsi nella sua testa come cazzo ho cambiato adesso la combinazione dei tasti per passare alla prossima immagine ecco vediamo se ci no non è questa vediamo che ce la posso fare ecco ecco questo è il concetto 2 bellissimo concetto 2 ragazzi non importante come quello ma in momenti come questo dove noi soffriamo molto dalla mancanza di questo concetto di noi vogliono fare qualcosa ma non ci riescono proprio perché non capiscono questo concetto qua vediamo questo concetto qua sempre imparato da bill cooper ragazzi quindi vi sto dando proprio il succo proprio i due concetti migliori di bill cooper che lui ovviamente che tu anche non solo lui perché lui diceva spesso che io non sono speciale io ho un cervello come te e come quell'altro ho i problemi che hanno i stessi uomini ho la stessa famiglia da mantenere diceva anch'io devo portare la pagnotta in casa e se faccio se dico certe cose poi rischio anch'io quindi anch'io non ho tantissimo tempo per fare ricerche però lo faccio diceva perché è importante fare ricerche a perdere tempo su certe cose questo per dire che a noi Dio ecco non ti offendere permettimi di avere questo concetto di Dio ci ha dato un cervello e lo abbiamo tutti questo cervello sta a noi usarlo pure meno molti si pensano che è meglio non usarlo tanto perché se no si stancano e poi pagano le conseguenze di quella di quello non usare il cervello ora il secondo concetto quindi questa è una citazione di Bill Cooper quindi lui diceva listen the radio the most dangerous radio host in Denmark il più pericoloso public enemy number one la persona più pericolosa d'America il radio host che significa come cazzo lo traduce radio host il radio speaker più pericoloso d'America Bill Cooper Bill Clinton non voleva che Bill Cooper parlasse era molto Bill Clinton Bill Clinton Bill Clinton Bill Clinton voleva azzettirlo però c'era un problema erano in America non potevano ma poi l'hanno azzettito dopo l'11 settembre che poi non ho detto nell'altro video come l'hanno ucciso questi questi politizzazioni che sono andati così perché gli dicono ordine all'altro e loro vanno e ammazzano le persone così senza capire chi stavano ammazzando cioè gli order followers che gli esegue ordine sono andati a casa sua si sono vestiti da da giovani così e sono andati con la musica questo è quello che ci dicono io non credo in niente ragazzi però ufficialmente questo molto probabilmente è successo questo i poliziotti si sono vestiti da giovani per pensare che clown e con un pick up sono andati vicino casa sua e hanno messo la musica a palla così lo facevano uscire di casa perché loro sapevano che lui era armato e lo ammazzavano perché sapevano che lui era bravissimo con le armi era stato anche in guerra in Vietnam e tutto quanto sapevano che era veramente bravissimo e quindi c'è da lavorare bene per ucciderlo quindi sono andati con la musica a palla però la musica a palla lui trasmetteva dalla sua casa questa radio partiva dalla sua casa che poi lui trasmetteva e poi prendeva in tutto il mondo perché lui trasmetteva in short waves in onde corte short waves che agli anni 90 era l'internet di allora si può dire c'era la libertà c'era in queste short waves che addirittura potevano andare in tutto il globo globo piatto per esempio nella versione della terra piatta questo short waves come facevano queste short waves ad andare così lontano per dire infatti c'era gente che si sentiva lui dall'Arizona lo potevano sentire in tutto il mondo potenzialmente c'era una buona radio che prendeva bene perché dicono in terapia c'è la cupola e il segnale rimbalza nella cupola e poi ritorna eccetera eccetera noi non sappiamo e lasciatemi la libertà di pensare quello che voglio sulla forma della terra per favore e quindi come lo uccisero lui quindi lo fecero uscire di casa perché lui avendo questi clown di merda che erano andati in là con la musica a palla lui disse ragazzi mi state dando fastidio voi ne dovete andare e c'è stato cominciarono a sparare e soon come cazzo lo dici e soon e soon help me logitech appena diciamo Bill Cooper si regò da questi malintenzionali che lui non sapeva purtroppo che erano malintenzionali giovincelli coglioncelli poliziotti travestiti da coglioncelli coatti così e gli disse ragazzi mi state dando fastidio sto per farvi fuori no no non proprio così ma comunque aveva una pistola vicino e andò a dirgli di andarvene e capì però che era una trappola e tentò in tutti i modi e ci riuscì a scappare subito subito in macchina sparando e ne preso uno di questi di questi maialini riesce ad arrivare alla propria casa però appena entra era già infestata di mostri di scarafaggi armati e lo fecero fuori in modo molto ma molto da veri duri insomma da veri robotici finalmente liberarono il mondo da questo pericolo e quindi cosa dice questo secondo concetto ancora devo iniziare questo secondo concetto è bellissimo da capire io sto facendo un video intero per questi due concetti che sono fondamentali una volta ha capito questo ragazzi io penso che questo video vi cambierà perché ha cambiato me capire questi due concetti qua il primo te l'ho detto quindi anche se la pensi diversamente dall'altro lascialo fare perché altrimenti se tu vuoi azzittire lui lui azzitterà te sarà un mondo di merda alla fine come lo stiamo sperimentando proprio in questo istante secondo concetto quindi quindi ripetiamo un'altra volta il secondo concetto listen senti tutto dice bill cooper leggi tutto ma non crederci unless finché non potrai provarlo da te con la tua ricerca no si per dire quante volte io ho fatto due minuti di ricerca con google e ho smascherato un sacco di eroi di queste pecorelle che mi dicono c'è lui sta cambiando tutto adesso c'è questo minchione qua e a me bastava sempre una mezz'oretta di google vedevo certe foto certi link certe cose al volo preparavo la presentazione al volo ci è voluto un cazzo per smascherare però il problema è che la pecora non vuole fare ricerca cioè non vuole fare questo qua finché non lo potrai provare quello che ti dicono dalla tua ricerca questo è fondamentale in tempi come questi ragazzi perché il nemico vuole mandarti fuori strada però è abbastanza facile smascherare il nemico perché la bugia ha le gambe corte e e non è difficilissimo da scoprire una bugia basta fare ricerca lui dimostrò che ai suoi tempi erano gli anni 90 molti truthers molta così gente che sentivano amavano sentire Bill Cooper che quindi era potenzialmente per la libertà non riuscivano però a capire questo concetto qua che facevano appena sentivano qualche notizia che apparentemente sembrava eccitante no andavano e glielo dicevano a questo Bill Cooper gli mandavano un fax e lui diceva ma avete rotto i coglioni siete dei dementi io ho fatto una ho preso un po' di tempo un giorno dice e ho analizzato tutti questi fax che voi mi mandate e ho provato insieme ad altre persone che hanno ricercato con me che il più del 95% delle news che voi mi date sono non vere sono minchiate e il nemico stesso che vi ha dato queste news per farvi perdere tempo per preoccuparvi di cose che non andranno da nessuna parte sono trappole ok capisci che questo concetto cioè il nemico usa darti notizie vuote anche oggi perché è fondamentale tenere buone tutte queste pecorelle perché loro ci mangiano grazie a noi loro non fanno un cazzo stanno lì in alto e se non ti confondono un po' ti mettono un po' di trappole a quel punto poi si scoprirebbe l'inganno pegorella e loro non possono più stare lì sopra nelle loro ville a mangiare alle tue spalle nelle loro ville con i loro servi che siamo noi affancazzo e quando lavorano lavorano per dirci le bugie proprio per mandare avanti questa merda però questa merda potrebbe finire se la gente lo volesse ma purtroppo a molta gente piace questa merda sono mangiatori di merda professionisti le campane suonano it's time for me to go away quindi capito questo concetto ragazzi perché su telegram non il 95% ma il 99.99% delle notizie sono minchiate stupidate minchiate su minchiate di minchiate però come ho detto abbiamo già parlato del perché la pecora fa questa cosa qua perché fare ricerca come dice Bill Cooper qua richiede tempo e loro non lo vogliono fare loro vogliono sognare che il mondo è semplice tutto sta per risolversi ma purtroppo fra poco se si ritroveranno morti già lo so come ho detto mentalmente però saranno per morire anche fisicamente quindi senti tutto dice così chiudo sentili tutti queste info che ricevi cerca di leggere di tutto perché in questa marea di informazione ti serve per la tua sopravvivenza essere in contatto con la realtà per capire un po' però devi decifrare tutto questo devi perdere un po' di tempo per analizzare tutte queste info che hai ricevute no tante persone possono dire tante cose ma le puoi provare ok lei devi devi fare un po' di ricerca e come ho detto non richiede moltissimo tempo se ci riesco io ragazzi io non ho accessi a siti così a pagamento che mi danno queste notizie stanno su google stanno e calcola che google è tutto censurato google non te fa più trovare un cazzo eppure due minuti bastano per smascherare questi clown quindi ragazzi due concetti fondamentali questi uno lasciare libero l'altro pensare a quello che vuole perché così poi mandiamo in tilt il sistema che invece ci vuole come dei bambini che siamo tutti che litighiamo e ci offendiamo uno dell'altro continuamente e poi il secondo concetto capire che il nemico ti sta inondando di notizie trappola mettitelo nella testa questo però ovviamente molti non lo vogliono nemmeno molti nemmeno vedono questo video così lungo quindi vedono le cose sensazionali così di due minuti ah ecco vai condivido condivido altri altra merda da condividere con altri minchioni e la merda si moltiplica esce ora ok spero che per quei pochi che riescono a capire la potenza di questi due concetti sono contento che finalmente li hai ricevuti anche tu e spero che tu li possa mettere in pratica ciao 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 ciao